A tutti gli imprenditori artigiani e alle loro famiglie rivolgo gli auguri di Buon Natale e l'auspicio per un nuovo anno di pace e di prosperità. In questo 2023 abbiamo continuato a seminare il valore artigiano nell'economia e nella società. Ogni giorno facciamo nascere la passione e la volontà di contribuire al benessere diffuso e condiviso. Lo testimoniamo con il lavoro delle nostre imprese, con la qualità dei nostri prodotti e servizi, con la partecipazione attiva alla coesione e al progresso delle nostre comunità territoriali. Consapevoli e responsabili del nostro ruolo nel Paese, nella famiglia di Confartigianato, noi imprenditori artigiani esprimiamo un messaggio comune che ci rende riconoscibili nella volontà di costruire un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo, a misura d'uomo. La persona è il centro del nostro essere imprenditori e del nostro fare impresa, ed è questo il fattore distintivo che ci caratterizza, la nostra forza contro mediocrità, superficialità e indifferenza. Il mio augurio è di custodire la consapevolezza di queste doti preziose e di portare anche nel 2024 «Talento e intelligenza per un'Italia a valore artigiano». Tantissimi auguri ancora a voi e a tutte le vostre famiglie, che possono essere giorni sereni e lieti per affrontare un 2024 attrazione artigiana.